Io lo so rompere, solo questo so fare. Sai rompere i coglioni, Luca. Oh, quello, guarda, è un grande talento. Mamma mia, che bella la colonna sono di questo gioco. Questo gioco è bellissimo, ragazzi. Ciao, Spotify. Io questo gioco lo adoro, ma è fatto male. Stiamo appena stati triggerati da una partita che eravamo ad un passo dal meno, non dico vincerla, ma quasi. Da raccogliere almeno la taglia. Da raccogliere almeno la taglia e XD. XD? No, XD è un cazzo. Stavo per bestemmiare. Allora, dicevamo, Luca. Eh. Un attimo che ragazzi... Ho sentito l'invito. Io vorrei farvi vedere il gioco, però Streamlabs è sotto il gioco e non posso altabbare ora. Però si sta avviando, credetemi. Guardate, c'è un documento artistico, ma non giocatelo. No, 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 anche quando lo giochi è molto bello. Allora, per chi non sapesse come funziona Hunt. Allora, siamo in un universo, in un universo appunto distopico in cui noi siamo tutti dei contadini. E praticamente ci sono degli zombie e alcuni boss della zona. Usando una speciale abilità con la E, praticamente vedi delle zone azzurre dove vai a cercare gli indizi e ha dato l'indizio e la mamma si aggiorna per trovare il boss. Solo che, appunto, è un server... Aspetta, Scri, non ti sentono. Perché non ti sentono? Eh, l'audio del gioco è altissimo. Al tabba? Non posso altabbare nel caricamento? Sì che vuoi! Ok, ora è andato. Prima non andava. Ok, mi avete sentito? Prima non andava, te lo giuro. Mi state sentendo? Ora sì, ti sentono, ho abbassato tutto. No, Yuri, ma com'è te pare noioso? Sì, ha ragione Eugenio. È vero, è un gioco molto tattico. Allora, praticamente, lì ti dicevo, siamo dei contadini in questo universo distopico in cui ci sono degli zombie e dei boss. Il boss è unico per tutta la mappa e per tutti i giocatori. Quindi tutti andano a cercare, con un'abilità speciale che è la E, delle zone azzurre, dove ci sono gli indizi. Tu trovi gli indizi e ti avvicini sempre di più al boss. Se il boss va sconfitto, una volta sconfitto si inizia il rituale di esiliazione, quindi bisogna difendere il boss che si sta esiliando, raccogliere la taglia e scappare. In tutto ciò sei contro gli altri giocatori. E inoltre, è molto importante l'audio di gioco, nel senso che in tutta la mappa si sente se tu spari e gli zombie, quelli minori, diciamo, ci sono alcuni zombie che fanno casino. Oppure se tu, non so, fai spaventare un cavallo, questo fa rumore, quindi si stende. Quindi è molto, molto tattico. C'è, Art, vedi tre mesi. No, come, ha fatto ieri 22. E ieri ha fatto il... Il bugato di Twitch. Ah, ok, sì. Questo è quello vero. Sono ttri o meno un mese da fare due anni di song con voi, non posso che essere un tattino ripetitivo nel tiro. Sarà cosa che vi gradite per questa triste distanza, quindi... Oh, è un'altra cosa, questo è un'altra cosa di fiducia. Art, è un'altra cosa di piangere. Mamma mia, Artione. La cosa molto bella fatta di questo gioco è che, appunto, siamo contadini, quindi nessuno di noi è addestrato per fare quello che sta facendo. Quindi spesso quando ricarichi le armi, non siamo precisi, manchiamo qualche colpo. Abbiamo dei medikit che sì, sono un po' XD. E possiamo resocretarci soltanto un tot di volte. E ogni volta che tu giochi, perdi la tua recluta, ok? Vabbè, è passato il decimo livello, insomma, se muori, quindi se non vinci, vabbè, insomma, se muori, uccidi veramente la tua recluta in quanto contadino. Quindi ne devi reclutare un altro. E questo è molto bello, cioè, nel senso, è veramente un roleplay carino. E ogni contadino, tra l'altro, ha un tratto, che può essere tipo un boost, un potenziamento. E, ecco. Ti fermo un attimo. Un gioco, secondo me è molto bello. Io vorrei far notare il cappello di Dado, come si vede. Da me si vede giusto. Guardate il live, se riuscite, perché io vi devo alzare tutti, ok, perfetto. Luca, alza lì c'è Dado al gioco. E alzo direttamente la streamlapse. Puoi giocare sia aggressivo che più cauto, e veramente i vari stili di gioco ci sono. Cioè, a me appassiona molto e mi mette un sacco di ansia, perché più che altro lo devo ancora imparare a giocare. Però, secondo me, è molto bello. Sì, è bello, bello. Il fatto è che, all'86% del rituale di esiliazione prima, nella partita poco prima, mi serve regrasciato. Alice, dovresti avere il cacciatore di prima, che ha livellato, e quindi puoi mettergli dei tratti. Lo so, ma questo l'ho appena comprato. È meglio il cacciatore di prima? Eh sì, perché puoi comprare dei tratti. Ora, ditemi... Cosa non vi conviene? Io li ho alzati. Non ne ho la minima, io li metto sempre a caso. Ok. Ora sono... Calcolate se è abbassato tantissimo streamlapse in qualche modo, perché io vi sento altissimi se loro vi sentono normali. Eh, diteci come ci sentite, ragazzi. No, no, addirittura, Eugenio, è anche... Adesso il volume va bene. Ok. Nel mio recchio siete altissimi. E quanti punti hai? 8 punti. 8 punti. Però, ad esempio, la ventola non posso prenderla perché è di rango 7. 17, scusami. Che quali per te? Io ti direi comunque... Dici, abbassami Luca un filino, ha detto. Ok, ora abbassi tanto. Mettere determinazione sempre. Ah, mi ha abbassato l'altro. La resistenza inizia prima, va bene. Allora lo piazzo, e poi posso metterne un altro in realtà. Ricevi un altro utensile o materiale di consumo. Però non so se spendere punti tratto così, perché sicuramente moriremo, quindi... Massimo, ma tanto poi li per... Cioè, sono propri del cacciatore. Appunto, se muore il cacciatore? Eh, vabbè, li perderesti comunque. Non è che li accumuli. Ok. Sono solo del cacciatore. E li ottieni livellando. Ok, ok, allora mi conviene, aspetta. Cos'altro posso mettere? Anzi, prendi Greyhound come secondo tratto, che sarebbe cosa? Segugio. Segugio? In italiano. No, l'Evriero, l'Evriero. L'Evriero, ok. Sentate che io ho venduto il cacciatore da livello 25. Ho preso un po' di... Un posto ho applicato speso tutto. Yes, perché mi serviva. Ah, l'hai congedato. Sì, sì, sì. Eh, quindi ora devo cambiare l'equipaggiamento. Perché puoi linkare Segugio.it, Yuri? Si poteva linkare solo le... Ah, se te sei... Si è resettato. Poi arriva la run e dice No, Dado, non bestemmiare, non bestemmiare. Andiamo, vai. Poi lo risetto. Sì, andate. Ma... Una cosa, Eugenio. L'ho scritto, non l'ho linkato. No, no, ma tranquillo, Yuri, è che abbiamo il muvoto che, Yuri, dovrebbe... Dovrebbe shuttarti down. Hai mandato un link, quindi l'hai... Una cosa, Eugenio, come faccio a rimettere il silenziatore nella pistola che l'avevo messo? Eh no, sono le pistole col silenziatore. Sono proprio delle pistole. Sì, è proprio... Sì, è proprio delle pistole. Mi spiegate perché questo gioco ha fatto sì che nella scorsa partita che io ci avevo giocato avevo la pistola silenziata. Perché c'è la variante col silenziatore e la variante senza della stessa. Eh, ma dovrei avercela comunque da equipaggiare, no? O almeno da comprare. Da comprare, sì. Ma io direi no, dipende. In realtà no, esatto, dipende se l'hai sbloccata. L'armine sblocchi con i livelli del... Tuoi, non del cacciatore, con i livelli tuoi. Ah, ok, quindi se avevi un cacciatore con... Casualmente la pistola silenziata, poi non hai detto che io ce l'abbia da comprare. Se te sopravvivi e arrivi fino a congedare il cacciatore, te la trovi una nell'inventario, che è la sua arma. Cioè, quando congedi un cacciatore, gli oggetti ti vengono dati. Luca, metti di pronto. Sì, scusa, credevo dovessi cercare come il Rainbow. Ma magari qualcuno troverà dell'ottima offerta proprio per RC Auto, sì. Beh, oddio, ha ragione Eugène, in effetti. Dove essere sbloccata la Nagant, la pistolina, quella silenziata. E, devi dermelo 5 minuti. 5 minuti. 5 minuti. Sono 5, vedrai. E le palatine sono pronte, sai. Non era in un numero, dai. Ma è molto più strutturato, capito, che tu Spotify, per questo che è bello. Cioè, non è semplicemente picchiaduro di zombie. Anzi, molte volte ti conviene non andare a picchiare gli zombie, perché se no fai un casino bestiale e ti scoppiano e ti vengono ad ammazzare. Luca, io mi raccomando. Mi dovete spiegare i tasti di nuovo, non me lo ricordo. Luca, se tu fai delle cazzate palesi, io bestemmio... Premi E e guarda dove sono le cose azzurre e comunica con i punti cardinali. Hai sopra una bussola e comunica a gradi. Scusi, so giocare a questo gioco. Il mio problema è quello che ha detto Dado. Io tengo ad andare un po' aggressivo sulle cose. No, Luca, vado aggressivo su di te, dopo nel gioco, scherza. Ma no, Zappo, ma com'è? No, Zappo, minchia. No. Dai, almeno te la leggeremo un pochino. Zappo, io ti manderò un sacco di foto di gatti, se ti fanno piacere. Una piccola decisione sbagliata di promettre a sello di rischio, vero? E Luca me la decisione sbagliata. Io non mi ricordo, una volta io sparai un colpo a uno zombie perché mi stavo inseguendo. Io ero tipo vicino a Dado, non troppo vicino, però comunque eravamo nella stessa zona. Io poi mi spostai, Dado non fece in tempo, uccisero Dado. Perché io sparai un colpo. Dado è scoperto su anima Toscana, spero di averci azzeccato. Sì, sì, sono di arezzo. 120, 120, andiamo a 120. E una cosa, non tutti gli zombie possono essere sparati. Ad esempio ci sono quelli che esplodono se tu li spari, questo non è il caso. Devi andarci con colpi di calcio, di pistola. Sparati? Eh? Non tutti gli zombie possono essere sparati. Sì, nel senso che possono essere uccisi a colpi di pistola. Ti chiedo scusa se non ho una sintassi soddisfacente questa sera. Sono un po' tiltata. Dalla tua presenza Luca, non hai capito? Sì, sì, lo so. Mi si muove. Vabbè, non... Con un BS aperto tra l'altro mi sfremmo un po' la sino. Ah, chiudirò. Io non ce l'ho aperto. Chi ti vuoi tu? Anche se lo reggerei. Eh, guarda, Spontify, non ne parliamo. Ci sono passato diverse volte davanti alla casa di Zappo89 e di sicuro non ho fatto niente al suo campanello da ragazzetto. Oh, Corby. Attenzione alla signora strana in mezzo al fienile. Dove? Eh, la vecchia, sì, laggiù. Vedo se ci arrivo con la balestra, non gli sparare. Uccido questo zombie qui, eh. Ok. L'hai ammazzata? No. Ma vicino. L'ho uccido io con la sul fienile, se volete. Ci stavo anch'io con la pistola in caso, eh. No, usa la balestra, usa la balestra. Ma la balestra è silenziata. E io il fucile è silenziato. No, no, vabbè. Però dovete mirare la testa, non l'avete soltanto fatta incazzare. No, ho fatto il dardo. Ho fatto il dardo. Ecco dentro. Recupero i dardi. Ecco dentro, ragazzi, sulla sinistra. Ho sentito sparare? No, no. Oh, c'è un cavallo. Oh, c'è uno di quelli grossi ciccioni. E' durissima l'arzole. Se ha il tiro pulito spara. Eh, ma hanno detto loro, sparava loro. Se no si sprecavano colpi. Se si sparava tutti. Sì, ma non ho fatto niente, preoccuparti. Eh, ragazzi, bisogna ammazzarle queste, eh. No, no, no. Ah, cavolo. Di qua, di qua, di qua dentro. Signora, signora. Uccisa la signora. Non è vero. Uccisa. Quella da dove è passata? Ragazzi. Ragazzi, si è un grato ciccione. Ragazzi. Eh. L'ho riuscita a tenere a grato. No, ragazzi. Sono morto. Cerca l'indizio, cerca l'indizio. Sì, 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 l'ho preso. E ora... Resto dado, eh. Ce la fai a tenerlo a grato. Io devo aumentare il fob comunque un attimo perché mi dà un fastidio. Ragazzi, no. Questo è molto, molto brutto. Aspetta, resto dado e si corre via. È vero. È vero. Di sotto c'è il boss. Di sotto dove? Qua. Abbiamo indirittato il macellaio. Ragazzi, questi non crollano. Non è bernonzati due? Ok. Ma... Cristo signore. Entro dal macellaio? No. Non ti sembra... Non mi sembra il momento. Cosa? Cosa è munizioni? Abbiamo ingrattato il mondo, ragazzi. State attenti alle persone. ragazzi i cani bau 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 che spavento c'era c'era un martello da qualche parte l'avevo visto no non non lo vedo se devo curarmi aspetta dai un martello non lo faccio anche i suoi ragazzi no no ce n'è una qua quasi tutte ci sono zombie aggrati la e giocatore giocatore dove qua luca direzione io l'ho pinnato 120 e magicione ancora ingrato ragazzi ho l'iscito e cristo quanto è lontano luca e no è qui era tipo dietro quella cancellina giocano poi non puoi fare finta di niente che io torna te non succeda niente sono morta io per colpa di luca sono morto anch'io non ho capito allora alice non ho capito perché sei venuta qui da me scusa è ma che ne so che io tu eri lì bisogna prima far fuori le robe sotto non puoi pensare c'è un giocatore il mondo angrato il giocatore che c'è alice cosa dovevo fare le cose con ordine no io vi ho detto semplicemente ignorate il ciccione di aggratelo io l'avevo di aggratolo ascolta la prossima volta che provo a chiederglielo però non si allontanate si deagrano gli zombie dopo un po' quelli piccoli li uccidete quello grande vi allontanate un po' non si era deaggrato quello lì non si era deaggrato luca no cioè magari da te ma siamo in tre in lobby sì lo so e anche voi dovevate arretrare ma tanto anche io stavo guardando dove era il giocatore ragazzi questa è vinta no perché l'hai detto perché prendo il caccio sulle leggendario così io mi sono mancata i colpi di due ciccioni prima di ammazzarli mentre tu stavi curando dado poi mi sono un attimo messa dove c'era l'indizio per curarmi sono letteralmente uscita ed era ancora angrato il ciccione quindi c'è litigate ragazzi ma no ma no non ne ho mai visto i loro due live su sotto però è anche vero che quando litighiamo su sotto giochiamo meglio quando litighiamo su sotto giochiamo tra yardiamo come dei dannati giochiamo benissimo ora qui dobbiamo ancora entrare in quel mood lì qui letteralmente l'istante che inizieremo a insultarci pesantemente giocheremo perfetti sbagliato esatto no non è vero non ho sbagliato ho fatto bene ragazzi ho perso quella livellata luca ti odio io quello leggendario non è colpa mia danno sempre una colpa a me spuntify vuol dire che ha riso semplicemente questo ragazzi ma ci siete ancora sì stavo mi stavo godendo la colonna sonora per cellare un pochino perché sennò mi stavo facendo la cosa le cose va bene una volta che figo è il cresciatore no 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 è molto sono quello di matrix è vero no ma non dicevo del tuo però va bene devo vederlo il tuo c'ho la scritta ricerca del server davanti se devi vedere matrix no anche cosa non mi ricordo se l'ho visto real cosa aveva un altro cereale cereale nel senso tipo la pizza al camut con le robe lì è buonissima la pizza al camut cosa è vero che buona è più croccante è da burguesone ragazzi no beh dato non è che allora anche se fosse comunque piuttosto piuttosto non riesco a mangiare una pizza fatta bene pagarla un tot di tipo di qualità e pagarlo giusto prezzo piuttosto che non so mangiare merda ma in quantità abbondante alice sì ecco e quindi è proprio vero non so alice qual è il punto del discorso alice membro della burguesa ma perché il camut va assaggiare messaggiato il camut da io a spotify ma va bene spotify era molto brutta no alice perché non sono un borghese no in realtà non ho mai avuto l'occasione ma che figo quello di da dove vuol dire che ha riso io magari un altro c'era spotify era così c'è la run in chat perché sennò bestemmia un attimo roba è che neanche un filo un velo di grafene come si fa l'attacco in corpo a corpo ok trovate il tasto io ho dimenticato il coltello e quindi dovete fare voi quello vicino allora ora quello grosso lì passateli lontano luca 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 io non accetto consigli da te ma su niente su niente se c'è una curva sinistra mi dici curva sinistra e curva destra magari a destra c'è il burrone beh la sua lealtà di un amico infatti mi aspettavo dicessi speriamo sinceramente qui dentro no 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 abbassati luca non iniziare le cose non cosa mi blocca e non accordo e cauta perché si vuole bene vuole arrivare al domani anche se fa schifo non mi avanza il personaggio non so che non so cosa è successo non posso muovermi 105 o 75 alice viene a vedere lucas perché mi sa che i server fanno xd di nuovo a what the fuck non lo so luca luca ferma luca fermati allontanatevi 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 no 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 ma io che ci ho bestemmiato troppo poco oggi ma cosa ti curi era fermare l'emorragia ho fermato l'emorragia ma perché morire perché poi ti risurre chiamato più cazzo sto credendo fatto in testa voglio dato a no che mi può risuscitare è giusto che ti abbia ucciso che non è che ha fatto un casino bestiale si è un grato tutto alice questo qui sicura mentre io lo colpito c'è un problema di metterci in pericolo dobbiamo andare a 105 75 c'è un problema liceo si è baggato faccio un'altra cosa sentite andando non si può tirare rispetto se no la live ha non ha senso andate da dono sprecare colpi per cortesia lasciami riusciare e non so se il fuoco in affanculo cavallo di mi basta mi basta no da quando si passa se non ti basta faccio fischio ok vi sperto ora credo che mi sia bastardo mi sta del partner è perché se no non aveva senso questa cosa ero fermo in un angolo siamo a 75 ah i cani i cani i cani i cani quanti e come cazzo fa ecco questo è un problema cazzo noi sono quando precisi ma sta ragazzo no no come come server di merda si guarda come lagga non è giocabile ragazzi è giocabile morti tutti no ok è giocabile è giocabile il lagga tantissima in giocabile non sono riuscito a fare un cazzo contro i cani sparavo alla cieca perché si trasportavano no no troppo ma tranquillo io non so leggere il tuo nome tranquillo però minchia il forum tranquillo anzi gg per il forum no ragazzi no io adesso io sono triggerato adesso volete andare su rainbow guarda che funziona sono triggerato fortissimo adesso non se lo gode rainbow se ci gioca adesso eh ante la trigger vediamo un gioco che odia c'è ancora marbozzo a stream no vaffanculo va bene rainbow allora perché questo probabilmente nessuno di quelli che è in chat lo sa no artium vabbè artium ovviamente non so se un genio ce la diceva ma non credo no no ma che era tipo un anno e mezzo fa si è fatta una live su marbono steam perché marco lo vede dai thermos squisi grazie 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 squisi quella ha odiato tantissimo non è che ha odiato hanno litigato a morte sì alla fine sì mamma mia ma quindi sì un gioco una cosa che si autodefinisce il gioco dove c'è come se io gli definisimo fighters il gioco non ha senso non è un gioco tu non fai niente tu stai a guardare un computer che processa informazioni mentre fa xd con il tuo nome e su una palla xd con il tuo nome e su una palla immagina fare una live di questo va bene quindi si avviare non si chiude ci metto ci metto un po cambia aspetta tra cambio io no no cambio 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 io non fare da non fare da streamlabs no 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 lo so non c'ho più nemmeno quella schermata io su obs allora cambiamo anche il titolo tu sei la mia vita altro io non ho altro io non ho eugenio vieni a farci da quarto dov'è il quinto se ce n'è un altro che può farci il quinto anzi è vero che non c'è nessuno di noi magari io ero tentato di comprarlo per la live però cosa era tipo ma ma carino non so se basta che ce l'abbia uno oppure c'è da un'avete tutti il contesto contadini questo gioco si vede anche dal comparto tecnico chiaramente no Sponti qui si tratta di un feto che ha programmato questo gioco ok mi sono appena accorto che Fletacca c'è partita rilassante adesso ci fosse feto tra i tanti guarda se volete lo aggiungo ho paura di ma cosa ti dissoci a fare può essere un coso senziente no può essere un coso senziente ma potrebbe non riuscire a programmare un gioco nel modo migliore e questo è il risultato CryEngine bravo teatio non l'hai sentito poi dopo la live lascia perdere il dopo ci sono andati pesanti poi c'è messo a piangere non hai idea sì c'è un'altra c'è ti sto sputtanando in live ma sì ma tanto ormai guarda ormai cosa poi tipo il giorno dopo eh non è successo nulla non mi pare che avesse fatto pace subito no ma sì ma perché lì per lì era stata pesantissima la discussione se avete litigato di brutto e quindi noi ci siamo detto ok Marbles mai più nel mezzo ci sarà io e Luca che tipo sì no io che scrivevo andando tipo dobbiamo fare qualcosa no ok ma vi scrivevate anche mentre noi discrivavamo no non ci si stava scrivendo c'è solo silenzio imbarazzante no io ti no io scrissi qualcosa dato del tipo c'è silenzio imbarazzante tipo dobbiamo devo dire qualcosa tipo dobbiamo dire qualcosa così glielo scrissi questo perché non sapevo se intervenire oppure no nel senso la situazione era un attimo beh Eugenio ti ho detto due minuti fa vieni su rainbow e facci da qua e tu hai detto arrivo ora perché chiedi se facciamo un rainbow davvero ha scritto anche arrivo cattura il gioco Luca eh si sta avviando il gioco catturalo come? con una pokeball? si no ma nel senso prima ovviamente no perché giustamente alla serata in cui sono triggerata mi devono anche sputtanare i miei carissimi amici e che ci vuole anche il discorso mentre si sputtanano vabbè comunque ah quindi sono tu amico l'hai detto eh diciamo di cry engine ok mi un carissimo amico però si viene anche su quel gioco cosa marble on stream ma di chi colpizzi mi confermate che ha detto che sono suo amico però eh questa è una prova che poi in sotto si rimangia tutto si vabbè Luca come quando tu hai detto che so guidare benissimo in sotto e tu dici no no non l'ho mai detto invece l'hai detto io off live credo di avertelo detto sempre in live mai anche in live anche in live no è vero in live ho anche detto che voglio bene a Zennet vaffanculo e quindi eh Zennet si è montato la testa appunto tutti diciamo delle cazzate ogni tanto Yuri 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 puoi tenerti quel centro cheers questa sera no 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 sposto sposto genio si io sto catturando il gioco ho dovuto cambiare schermo ragazzi qualsiasi anche sub non sub qualcuno ha rainbow che viene a farci da quinto si ci serve un quinto su rainbow eccolo guarda come si vede bene mamma mia cosa stai ascoltando cosa stai ascoltando Zappo cosa benvenuti in una live degli unicorni benvenuto noi siamo tutti noi tutte le sede alle 22 e 23 no 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 invitati i unicorni sono il caotic neutro sei ditto sei ditto sei già in lobby vabbè vi invito io si Luca siamo già in lobby tu ho anche invitato no allora l'hanno visto anche in live non sono non ci sono arrivati inviti io però mi sto sentendo molto con disagio aiuto dado mi sa che c'è il bug com'è successo a te ho invitato anche te Eugenio eh sì devo riavviare Uplay stesso bug di dado ragazzi stiamo io Luca fuori dalla live Luca fuori dai corgi dai corgi allora è successo anche a te oggi dado ragazzi ragazzi noi siamo un gruppo di sestri stiamo a tutte le sede alle 22 e 23 senza Luca allora Spotify lascia perdere c'ho poco tutto è andato in disceso da quando è quell'86% dell'esiliazione dell'assassino c'è bloccato io entro in discord loro erano tutti relativamente felici Eugenio Eugenio dado Ubisoft eh riavvia Eugenio per cortesia eh però porca perché non sto funzionando un cazzo stasera artio ragazzi facciamo irlo alice nessuno ti sputtana anzi ricordo quella serata come la più disagevole e credi ragazzi per cortesia voglio che accada mai più aspettate parlare un altrettanto quanto ti temo cazzo stava parlando arte grazie grazie non me ne non mi dici cosa fare beh non allora questo qui non è il mio iban non donarmi 100 euro aspetta qualcuno qualcuno ha mai visto qualcuno ragazzi 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 e adesso faccio una domanda bravo artio me e la mamma di yuri nella stessa stanza no quindi potrei essere tua madre ti dico quello che devi fare tieniti potrebbe anche essere batman ma quello è un altro discorso ragazzi ragazzi io vedo soltanto un jerry cheese e una papera in lobby perché io vedo il loco di rainbow che sta caricando ok maledetto quello lì sono molto confuso dispiace il tappo adesso ti mandi i cazzi cazzi io non ho capito gatti ho capito un'altra parola luca ti capisco c'hai sempre cazzi in bocca te luca cristo qui era nell'orecchia però nel senso figuratamente figuratamente maledetto niente tappo ci hanno scoperti mi dispiace scusa non capisco se era un insulto no non era un insulto no no non lo era cioè grazie se consideri il paragone a me stesso un insulto comunque va bene grazie sto sentendo male tutto c'è un genio in mezzo no ragazzi tranquilli io mi mangio soltanto questa copana in popcorne no ora mi ha fatto venire voglia di popcorne ti odio stai zitto e avvia questo merda oh l'ha avviato sto entrando oh l'ha avviato non credo di aver capito se ci sono tutte le persone che non sono nel nostro raggio visivo beh in potenza sia come il gatto di schrodinger il gatto di schreck il gatto di schreck credo anche il gatto di schreck sono interrato signore cristo mi avete invitato quattro volte quindi nessuno di voi ha rainbow chat chat esatto per questo che costa 8 euro 80 giga in 10 minuti è pure gratis va bene si fa in 4 artium sta parlando artium se qualcuno parla allora c'era solo per dire che la paura verso la tua persona è pari è l'affetto che provo per la tua persona perciò addio giochi demenziali in questa vita o nell'altra ok hai capito alice non ha UBS aperto no chiaro perché se non leggava unto showdown perché cry engine ha detto che il terrore che prova verso di te è pari all'amore che prova verso di te wow e poi ha detto una cosa su giochi merda ok invitatemi invitatemi fratomo fratomo l'ho invitato stai sicuro lo invito io e accetterai il mio ragazzi le sere in cui io sono divento subicentr sono notoriamente le più divertenti e le meno salubri per il mio fegato che si sono mai state alice sto per diventare scomunicato ma non lo hai ringraziato cioè tipo non ti ha scritto veramente odio no però tipo un annetto fa me è arrivata una chiamata presente no mi why ti dice da dove proviene ci ha scritto città del vaticano ho fatto vai però non ho risposto perché ho fuori della scomunica davvero non mi arrivano gli inviti ma hai riavviato solo rainbow tutto ho riavviato tutto è un genio è stato un piacere ciao ragazzi ciao 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 no solo dell'acqua oggi col ghiaccio e della carta dentro lice era una parte di matematica metteva sai per il mio bene si era per spronarti a fare meglio è intelligente ma non si applica lice è anche il capo delle studenze iuri ti ricordo che anche tu ti chiami lice stai male per caso lucas ma sempre è bello che tra gli ingredienti della sua acqua abbia inserito della carta allora no è successa una cosa io ho messo un cubetto di ghiaccio dentro un bicchiere poi ci ho versato dell'acqua frizzante dal bicchiere è uscito pezzettini di carta io non so se erano nel ghiaccio non so se erano nell'acqua non so se erano nel bicchiere non ne ho la più palle d'idea ho cambiato bicchiere nel dubbio c'è un problema sintattico è uscito i pezzettini di plastica peccato che è carta però va bene immagino che se in matematica avevi sei per incoraggiamento in grammatica tu avessi non so cinque e mezzo per spronarti a fare meglio no? secondo superiore? eh sì avrei dovuto toccare lei ma volevo collegarmi a tua messa sei mago senza saperlo bravissimo dote naturale tra l'altro Alice mi confermi che la cellulosa noi la la digeriamo bene ehm sì quindi la carta è ottima Luca? Luca è partita ragazzi non ho fatto il tempo a reagire ora si la duma donne ma voi non avete idea io non ho fatto il tempo a reagire è proprio partito e questa è la è frizzante cioè l'acqua frizzante perché la Coca Cola non me lo fa ragazzi 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 allora la sensibilità di Ant era molto XD e questa sensibilità mi sembra di essere non so ho le motion sickness io motion sickness ma c'è ancora Eugenio qua ma che cosa è salve ok vedo Eugenio online ok Eugenio online quindi ora si può sì ma c'era anche prima online imbecille no prima no sì sì molto bene qua c'è il giubbottino chi è che non l'ha preso io 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 Luca Luca sta streammando c'è uno c'è uno guarda eh sì anch'io ho sentito cose mi sta colpendo mentre mi sto mettendo il giubbottino ma scusami Alice dove è? il giubbottino è il nostro signore ma nessuno barica qua bene Luca gli avversari sono Cola e Tepsia aspettate ce n'ho uno uno qui non so se è la Cola o se è la Pepsi è capitato una mano ci credi che stavano colpendo me finito round ti dico una cosa molto divertente molto divertente non so non sapevo come fare sinceramente intanto han vinto ragazzi usciamo dalla partita e invitiamo Eugenio vai sì dai ragazzi benvenuti in questa live degli unicorni dicevo Zap pensa che io in classe avevo un secchione che bisognava dargli 10 in tutte le materie altrimenti piangeva altrimenti non andava bene e avevo fatto una verifica di chimica perfetta a cui ho preso tipo 9 9 e mezzo 9 o 10 meno non mi ricordo non mi ricordo cosa comunque non era un 10 pieno però era perfetta allora sono andata a chiedere spiegazioni e la risposta è stata è Alice anzi no è Rossi ovviamente perché ti chiami per cognome è Rossi no la devo la devo di devo differenziare dall'altro ragazzo perché lui lui è lui e tu sei tu ah sì davvero sì sì denuncia penale proprio superiore sui legami ionici e sulla nomenclatura è la voca perfetta non era un 10 pieno perché non ero noi abbiamo invitato il genio comunque sì e che che vabbè dai su facciamo una rank vai facciamolo Alice è un tuo amico e Luca non io è vero Zappo vaffanculo Zappo posso vantarmi di essere amico di un hacker gamer scusate io veramente Alice cerca la partita ti spongiù è un posto non c'è non c'è un genio non c'è un genio oh 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 fermi ho ricevuto l'invito accettalo yes yes oh è entrato è entrato facciamo una normale oppure facciamo la XT partita vera no normale 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 per favore facciamola per bene mi accendo l'aria voi siete fuori di te Alice io invece sono calmissimo anche io ovvio stai zitto te volevo mandare 9.5 beats per Alice ma non si può Yuri tu sei veramente una bestia di satan incarnata in una persona non era anche il giusto per alleitare lo spirito sì sì ma tanto dopo faccio 4 ore di meditazione ma poi che devo fare un picchia ho il paradiso anche oggi fan fatte nessuno di noi può fare record grande Eugenio ma io posso sono a 55 Alice sono ne questi due ma poi vedo la topo pic e scusa non riesco ad essere segno ma voi siete veramente ascolta Alice hai dovuto prendersi sul serio Jerry a piramide assolutamente sì Jerry Cheese è un godlike punto jfg Jerry Cheese qua io scopo Jerry Cheese punto png ragazzi che ho proposto io che c'era la cartella via quella cosa mi ha fatto schiettare 10 che mappè mappè è Far Cry ragazzi no è Far Cry davvero devo anche sentirmi colpo per Far Cry adesso pingu dai pingu dai dillo Alice dove è Far Cry no mollate giacca no no ok allora Dukkabi è la mia propic è Jerry di Tom & Jerry che ha ingerito una forma di formaggio intera e quindi è diventato una forma di formaggio tutto a posto viena qui ci sono domande Lion sì anche l'altra la scorsa partita non l'ho non l'ho più visto giocare zero la scorsa partita l'abbiamo un panna da cazzo di cazzo adesso ma non ho clash a Eugenio no allora io potrei dire cosa fa Eugenio si è mutata davvero si è mutata Eugenio sì Eugenio sarebbe successo lo stesso che io l'avessi detto oppure no tutto mi ricordo i tempi in cui uscì Clash che c'era il meme che la paragonava da Geridos perché l'espressione è uguale sì ho scritto di Scarca Renzi per favore Eugenio smutati ho swappato al pc e ho sentito far cry sono smutato già che fies con far cry non voglio rigiocare a far cry non voglio rigiocare a far cry voglio rigiocare a far cry ho detto no hai detto non ho detto si è sentito questo questo ma sta parlando io non lo sento come si parla in game baguette no nomini socio G mi socio dal razzismo di Luca ragazzi ma perché è la loro specialità è buonissima è la tua specialità della tua mamma è il pane più buono del mondo Luca se uno travi uno in game con la quale devi giocare devi divertirti e questo qua ti dice ah ah spaghetti sai le volte che me l'hanno detto tipo ah sei italiano pizza pasta mandolino ti sei divertito l'ho insultato in realtà non è vero quindi c'è i godi quando ti insultano fammi capire ragazzi stavendo un'interazione molto divertente con questo vigil è arrivato qua mi ha pochi bloccato il rinforzo mi fa no 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 regola numero uno ragazzi oh no no io non so piazzare i droni qua io potevo aver fatto un errore non ho piazzato i jammer prima vabbè le mettero tutte e due queste vigil ci saluta vabbè stavo pingando col tasto centrale è questo che pazza eh quello lì luca ok levati che cazzo di spavento genio è un pazzo sclerato quello lì ma guadaglio giù giù lì lì wait 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 cos'è lì eh te lo stavo pingando ma con questa sensibilità ma sei di sopra sì sono di sopra ma stanno rompendo lì no dado oh cazzo è lì sono lì eh dove ho pingato giù ok spottati uno credo ci stiano anche altri spottizio c'ho becca Alice è qua? sì lì esatto c'era Ashe vediamo se mi riesce una cosa ah stai mettendo la composizione eh può essere che si sia spostata eh ma sono bravissimo do' aspettare un altro po' oh cazzo ma sei scemo è un progetto questo qua è un fuori di testa che spavento vedi che si è vedi che si è vedi che si è dall'altro lato vi arriva finca dall'altro lato la vista la vista sto puntando c'è un drone puntato oh buongiorno lì 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 l'ho vista sì 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 ci cercherò ok eh l'ho colpito un po' di volte cazzo cazzo sono in due possiamo mutare questo tizio sì io l'ho già mutata per il bene della live grazie della steal nice di niente quando vuoi ma sono sempre lì bravo è insight sulla bomba B vuole me vuole me GG con la sensazione giocata GG mamma mia ragazzi qui tipo vuole me tutto tutto questo sta continuando a parlare ma io non l'ho sentito io l'ho mutato e non gli voglio dire baguette ma sono tentato se lì ci sta formando per l'italiano la scuola ma che che cos'entico sei pingo te lo spiego quando sarai più grande ok ho mandato è stata la merda capco capito ora il nome no 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 è Kane è quello in fondo è Kane perché è inglese gli piace tanto Harry Kane il giocatore no sono un fan del Southamshire capito ho detto quando sarei più grande pingo mangia baguette lumache no mi dissocio che l'ha scritto questo adesso adesso rinforzo qualcosa e lui mi dice sicuramente no 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 Luca allora allora vede un po' ecco bisogna romperlo vero qualcuno può rompere questo muro qui io 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 ma mi avete detto che tra il muro tra le due bombe è meglio non rinforzarlo la bomba alla bomba b c'è un frano dice la sorella scusami sono detto fra della bomba per questo non era quel fra luca abbiamo buttato c'è un muro ma lì c'è una trappolina xd io potrei starmi sentendo male qua c'è un signore dove lì arriva c'è un signore sto cercando di vetarlo a entrare perché c'è la trappola dove pinna stupido e niente però c'era anche un'altra ma se quello lì si mette mette in mezzo ben sicuro lì si mette in mezzo with waffle battle battle partene ragazzi giù c'è il drone lì non sono riuscito a pinnarlo ma giù al garage c'è una ok l'ho piccata c'è il drone qualcuno è il segno è proprio destra i pala su p i pala su b b vado si c'è la mia destra no con il drone cazzo questo fuze te l'ha rimissato vaffanculo me l'ho usata in faccia la cosa fuze o dalla porta dove stavano prima è lì è lì asceline applicando sta piccando arriva 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 l'operatore alleato rimasto è pronto waffle hanno trovato una bomba va a difesa ma vetti possiamo dire allora possiamo usare i droni occhio la squadra d'attacco ha trovato una bomba sono tutte e due lì sono tutti e due lì nella stanza pingata uno di fianco al bigliardino che hai subito appena entri e l'altro alla sinistra ok alla tua detesta ok entra esatto nice ok l'altro è dietro tanto credo abbia droppato il disinnescatore quindi se vuoi aspettare eccolo lì eccolo lì allora io che non esco questo così mamma mia mi sta venendo l'attacco di tachicardia bravissima so sentendo continuare a sparare si era mancato l'audio stava sparando si è passati dal 3 engine a ubisoft e soprattutto non è regarato e soprattutto riesce a piazzare le telecamerine perché gli si clicca il fucking rotella del mouse il fucking rotella bro bravissima immagina non si fa cliccare la rotella del mouse questo meme è stato fatto da rotella del mouse ragazzi sta carriando si non ho mai negato che mi faccia carriare in questo gioco è tutto ok io ho iniziato ieri a giocare a questo gioco ma ragazzi bisogna divertirsi io ho fatto una kill con un francese in mezzo quindi ragazzi facciamo ho letto ora tutti quelli che scrivevano fra fra mi si vuole bene mi sto trovando uh 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 il successo della polizia luca non farlo prego l'ha fatto? no 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 è stato bravo dai insedibile se vuoi c'ho del giro 4 eh chi'è che ha messo il muro qui? io l'ho messo il muro io lo sto dando rinforzando allora in rate di qui eh chiedigli se lo fa se lo leva se no frangli le vostre bombe di li no 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 nooo no 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 no... Oh no! Oh no 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 no! Sfatti ora! Sfatti ora! Sfatti ora! Ma perchè far ridere questa cosa? Perchè prima ha fatto veramente così! Mamma mia! Ah, mi sta la telefamera! Bro! Brutello! Hanno aperto, eh! Qui hanno aperto! Dove? Eh, non riesco a pingarlo! Oh cazzo, stavo per cadere! Ciao Alice! Ok, uno è sopra! Lo spotto! Spottato! Vedi non piccare! Stai sopra di te! E Ash? Mi sembra! C'è il drone! C'ero chiuso! Ok, trovato, trovata Ash! Sta girando! Gira! Ce ne sono un altro! Altri due! Entrano da lì! Sto continuando a spottarli, eh! Buono! Ottimo! Qualcuno mi dovrebbe coprire, actually? Mamma mia! Il pentagono ha meno telecamere comunque, ragazzi! Eh, ragazzi! Arrivo a coprirti, eh! Stai sorrigliando! Grazie! Sto continuando a spottare, sono due lì! Non so dove siano gli altri! Eee... Ho staccato la telecamera, quindi andate, fate voi! Sto guardando io, dalle mie! Ok! Arrivo! Vado laggiù! Sì, sì! Dove ha fiozzato il signore, là! Arriva uno da lì! Eh, sono sempre lì! Sono sempre lì! Porca puttana! Stim Sniperman! Non piccate! Non piccate, no! Devo entrare! Sta entrando! Sta entrando! Cioè, abbiamo letteralmente cinque telecamere, dai! Devo ricaricare! Nice! Ok, lo vedo! Vedo anche l'altro! Lo pingo! Lo pingo è fuori! Fuori verso Luca, verso Waffe! Oh! Bravo, Luca! Non vedo un cazzo! È una granata! Luca è oltre il muro fuori all'esterno! Ok, è lì! È lì! Lo sto suottando! Ok, sta entrando dalla finestra? No, non sta entrando! Adesso adesso entra! Ho colpito il compagno! Merda! Mi si è messo in mezzo! Adesso è protetto! È protetto! Se volete sparare al muro! No, no! Ciao Brumano! Ciao Brumano! Ma vaffanculo! Dov'è finito il compagno? Avvicini al muro? Avvicini al muro? Sì sì sì! So come scappare! Perfetto! GG! Io non ho fatto altro che continuare a spottare nemici e premere X! LCS ci fanno baffo! Io non ho fatto altro che non fare nulla! Ah! Ho capito perché ha detto stream sniper! Effettivamente avevano... No, avevano usato un drone probabile! Mi è arrivata una granata precisa in un momento! Ciao Rocky! Dalla chat di fragole ragazzi! Ciao Rocky! Ciao Rocky! Io non sono stati di cheddar! Ciao Spontify! Ciao Spontify! Grazie mille per essere passato! Redox su Pulse! Ciao Spontify! Ciao Spontify! Io non... Non gioco da una vita! Ruroni! Questo è il problema! Quindi le cose che avevo mi si trovo bene un tempo! Ora non è detto! Vuoi sentire Blackguard! C'è conta che abbiamo... Ma non usano le stordenti Alice! Io metto le cariche esplosive! Stordenti? No, io la Claymore eh! Ho la granata comore! No, ancora meglio! Ancora meglio! La Claymore! Lei è spesizionata e Yuria Alice! Unc'è Ruro conta che abbiamo tutti ricominciato a giocare ieri! Sì! Perché io ho iniziato a giocare ieri letteralmente! E noi l'abbiamo riscaricato ieri dopo un anno L'odio l'olografico su tutti Volevo provarci il reflex Perché è quello che uso di più O anche... beh, oddio, dipende Secondo me l'olografico è un po' troppo Dove eravamo noi prima comunque Non so come entrare io È un problema Allora io direi di spavolare da stazione di servizio Hanno mute quindi non posso fare la sera Piccato occhio perché da la stazione di servizio possono spawn piccare Posso spawn piccare in qualunque mappa Non, 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 no, 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 patal, no, patal, no Sì, ma da quel punto è molto più facile che spawn picchino 6 secondi all'insedimento No, non lo passa Non lo passa wearing a Bella Ah ma se... Grazie a tutti Io ho sparato la telecamera eh Ah ma Ibana ok ecco perché d'accordo Ah ma Ibana cosa? Ibana è quell'altro tizio io penso fosse Alice No Quanti amore in questa chat siamo stati a bestemmiare fino a due secondi fa Io sono tizzatissima Rocky Hai diso Rocky? Sì sì Rocky Ah è lì sotto Ah io vorrei chiusare però niente Non è qui dentro eh Ci stavo per sparare un colpo in testa Alice Ah ha messo una C4 e l'ho rotta No basta niente Basta forse non è caso Eh Vi rompe il mute eh Aspettate così avete tutti il nuovo controllo dei droni Raga merita di essere scaricato Rainbow? Sì A me piace un sacco Io volevo soccarci tipo da anni Ma non ho colpici abbastanza potente Riavete il controllo dei droni comunque Proprio ascello Ah c'è un altro mute dentro Niente Io vorrei capire Dovevo poter entrare sì anche io Parisi da qui Non si entrasi da qua invece? Sì sì Ho tipo rotto il muro dietro Faccio una pazzia Ma io l'ho preso in testa Perché non mi ha dato manco l'hitmarker Maremma impestata Cazzo Ci sono? Eh occhio ci sono due persone lì eh Preso C'era un altro Riesci a dronare? Wait Mi abbasso Sì? Ok vai No non riesco I droni non sono liberi eh No c'è un altro cosa C'è un altro Mute che non vedo Ho uno di vita io amici Vai Perfetto Nice Allora Mamma mia se sto facendo cacare Vi rompo più Ah mi ha salvato lo scudo di blackbird tantissimo Io ho preso una kill a caso Va bene No ma anche se giochi da solo Vittorio perfetto attenzione Ruro Non è quello il suo nome È proprio scritto male Si chiama comunque Eugenio 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 in una lingua arcaica Eugenio col pizzo Sì sì è Eugenio No l'ho ripreso nelle lingue inventate di Tolkien Hai capito? Sì 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 Che sono un fan io del signore degli anelli Sì 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 Direi comunque se di fare un'altra Se non altre due Sì anche altre due Considerando che abbiamo iniziato Artyom che dice Artyom? Farò non tiltare che con Eugenio col pizzo e urlo del sium Non ho capito Io ho capito solo che ha detto fra Una volta ho beccato il pacchetto alfa al 2% Sì ma Cioè Io mi pare una volta in level lo beccai col 7 Quando si soprava Io non lo beccai col 78 Allora ieri col 10 e 50 l'ho beccato E questo è un senso Fra col piacca Fra Fra col piacca Pingu Pingu permabanner No ma gli date il vip ma di che stiamo parlando Cosa ho appena visto? Eugenio stai zitto Ha 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 Ok allora ban Vuoi usare Jagal? Sì Ma è ok Prima non l'hai usato Sì che l'ho usato Sì l'ha usato prima Ma prima l'hai usato Sì è l'altro Eh va a fecava presi bana ragazzi Sì è vero Era fra Prima è stato usato Non ho capito quale Infatti Le viti è perma ban Non ho capito Bandiclash No No Quello dopo Quello dopo è Bandiclash Sì sì Ragazzi io vado a depolire qualche monumento No Qualche monumento che è appena costruito tu Il karma Avete visto come agisce il karma ragazzi Avete visto Chiedi chiedi che il bandiclash Ora bannano clash Ovvio ora bannano clash Ovvio ora bannano clash E il turno dopo Blackboard Secondo me bannano tacianka E' il turno dopo cosa che siamo noi a bannare il turno dopo? Lo so l'ho detto apposso E siamo anche a dipendere AAAAAAAA Dai Facciamolo per favore Poi io voglio giocare io voglio divertirmi Per favore facciamolo per i meme No non valkyrie No No lui Sì Che palle Perché siamo così sfigati ragazzi Noi non abbiamo bisogno del ban Si banna il lord Eh Eh Guarda la partita dopo lo uso Era for the myth Luca ieri ci fate pensare Allora Ieri Ricuperati la land di ieri Attico Attico Perché c'è un punto Io ho piazzato la torretta di Tachanka E mi sono nascosto in un angolo Un montagna entrato Andato diretto sulla torretta Ci si è aggrappato Io ho aspettato Sono entrati altri due Doppia di coltello E poi però Dado mi ha rubato la kill su un montagna Ma che cazzo vuoi? Ma che ti sei in cula Luca? Comunque stiamo andando nella sala del narghilè Ah no abbiamo cambiato No attico Della sala del narghilè Beh dai Sai che il narghilè mi fa cacara? Ma hai provato Mi fa veramente schifo Però c'è un posto dove li fanno Dove fanno anche dei cocktail alla frutta Buonissimi Infatti andavo tanto per questo Ah si? Si pignatte si chiamano Mi viene in mente Mi vengono in mente i cocktail che abbiamo preso da ascoli No no Molto meglio di quei cocktail lì I shottini I shottini non sono cocktail Erano dei cocktail Erano dei cocktail è vero Si Beh si in effetti si Erano molto carini Quello là che come si chiamava il cervelletto Il cervelletto era buonissimo Quello era buonissimo Dio santo Ma c'era anche quello glitterato che era molto carino Quello No io avevo quello all'anice Cosa c'era? Jäger e vodka Si La roba del Jäger Si l'operatore di resistenza Esatto Jäger non è un operatore Scusa Certo si ovviamente Assolutamente Non abbiamo un bannatore No però La pignatta In quel senso era Cioè E' tipo un'enorme Un'enorme Ehm Cosa di cocco Ok? Scavata E dentro la riempiono Da dove tutti pescano con la propria cannuccia Ed è tutto di Di frutta esotica Con un sacco di ghiaccio Non senti neanche il room Questa è la frutta in questione Ehm Credo che dopo questa live andrò a bermi del room Ti chiedo scusa Bravissimo Artium Che ha ricordato Credermi una birra dopo Non bevo uscire Eh si Probabilmente anche io dopo la live mi pio una birra Anche perchè runcaosa di benzina Eh quello è buono Ragazzi Se ci fosse una persona in site Ma neanche vicino al site Eugenio Ragazzi Devo pensare Eugenio sono appena caduto Ok? Io devo pensare delle camerine su Wai Io sono Pulse Fricopita lì c'è Ma infatti io non ci vado da anni in realtà C'erano le superiori Scusami Artium Ciao Artium Ciao Artium Ciao Artium Ciao Artium Arrivano da qui comunque Spottato Che spavento quando parlano questi Ma perché parlano questi? Io ho appena perso 5 anni di vita Si è altissimo la chat Ragazzi ma io ho la chat mutata di default Beato te Io sono in un posto veramente di merda Non so dove piazzarmi ragazzi Mettetevi qui Anch'io non so dove mettermi Dove? Arriva arriva Che poi bello Ma prendo quello That's what That's what Alice Alice Guardare mettere a camera Mamma mia come ho messo male queste Ah è trovato 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 quello spot Fermo fermo Sali 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 Sono stato rilevata Ehm hanno rilevato Non mi ero accorto Cazzo E' capitava quella Ok ne ho trovato uno fuori Ragazzi qua Capitao sto stringa Merda Feuds Cazzo Non ho vita ragazzi Non ho vita Mi sono mosso E' proprio io Non ho vita ragazzi Dove? Lì alla finestra Alla finestra quale? C'è da su questo lato qua C'è una zanzara in camera nooo Questa qua No arrivano da lì anche eh Doc è morto vero è morto? Sì è morto Drone? Distrutto Che paura Che paura Eh scusami Ma c'era il drone Non è saggio rimanere qua però eh Merda montagna Ehm Teoricamente anche si Bro C'è non vedo altri luoghi dove mettermi per proteggere il site Eccolo ha trovato Beccato E' ferito è ferito è ferito Cazzo Dov'è che stanno? E' la Oltre la B Oltre la bomba B Sì è montagne Perché ha preso il telefono? Morto 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 Ho colpito qualcuno non so se ero Si 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 era quello che ha ucciso io poi Stanno nella stanza? Quella stanza? No 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 Ah fuori fuori cazzo! Era lì dalla finestra Una finestra davanti la bomba B Ciao set Ciao set Davanti Finestra davanti la bomba B Cazzo Ce l'ho dietro Ah ok lì c'è sopravvissuto Si si sono sopravvissuto Arriva Però c'è Ce l'ho messo davanti Cazzo Ho trovato una bomba Un operatore alleato rimasto Oh no Muro? Muro? No 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 246 ore su sto gioco direi ci giocavo parecchio Beh oddio No però 146 ore non sono troppo Non sono tanto Dimmi quello che devo fare quando sono così Per favore Arish cosa ti ho detto? Muro Di mettere il muro e ho pensato al muro e mi sono sconcentrata e non sono andata in prefire Arish, Arish amore No scusa Arish Scusa Arish No nel senso che quando te l'ho detto ti aveva già colpito No no No? No Chiedo scusa Allora Che nel mentre sono passati tre anni quindi E' stato quello mi trovo Piano 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 Ah Con te ce l'ho da un anno e mezzo ancora non so lo fare Vabbè ma ci hai giocato strappo con... Sì Io ho ucciso montagne Sono le cose di cui esserne fai Poi ho su molto Poi ho su molto Che sono ancora diamante e aspetta un secondo Con tutte queste ore si... Vado Sei arrivato in champion Sì Per un pomeriggio Vabbè l'hai hitato Cosa vuol dire? Eh eh Dovevo mettervi telecamerine wait Penso io non sono mai arrivato al centro Te ci hai giocato due ore No Prima di giocare con voi io giocavo Poi ho smesso di giocare Rimangono dieci secondi No ragazzi Questo qui col fucile a pompa Non ha preso un problema Mi sta sentendo Letteralmente spadini Allora Spadini Eh adesso sto scendendo in arrivo È successo una volta Dado Ma che volta cazzo Gigi Dove sono? Bomba Bomba B Stato indipugato Sento rumori sopra ragazzi Sono io Sono io No Sono io Questo qua è bravissimo ragazzi Sì sta facendo pezzi pazzi Sì 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 un sacco Eh c'è montagna fuori lì Pinate con la Z Non ho capito Sì lo sto facendo Sto facendo un attimo Luca È che devo anche mettermi in sicurezza Prima di pinare con la Z No che non ho capito Dove siete? Olè Davanti alla bomba B Oh cazzo Davanti alla bomba B Quello ero io Eh lo so No ci stava dato io Ma scusi Ma questo qua Smartfabile Sì è molto molto bravo Smartfabile Smartfino Eh vabbè 45 livelli Sto gioco da costruire pesci Alla Notte notte Yuri Ciao Yuri Grazie mille Grazie mille Grazie di essere passato Di essere così attivo E un bacio Tanto questo qua ci carria E non è divertente Guarda andiamo lì Sono almeno faccio Due notte fra Zappo Zappo Ah Signore Iddio Comunque in realtà mi sta calmando Sì sì Anche a me tantissimo Mi piace troppo Davvero? Ok Sì tantissimo davvero Allora davvero il tag partite rilassate ha senso No non sono partite rilassate Sono partite rilassanti È diverso Però il tag è rilassate Esatto Allora tu stai zitto Allora Per una volta che dice una cosa intelligente Eugenio Lascialo gongolare Luca il bue che dice cornuto all'asino State bonus La legge La legge Open the vault please Che spavento Che sicuramente Appiazzare le telecamereine Pro Your grenade Troppo le mare M'ho testata Preparare le No no la granata Se c'è Se ne accorto Ho la telecamera Attenzione La squadra d'attacco ha trovato una bomba Ragazzi sto laggando Si vede No in realtà io ho 40 Eh adesso no Ho avuto uno spike di 1500 Ancora 10 secondi Restano 5 secondi Ok arrivo Sotto è coperto da telecamera eh Ho fatto tipo 280 Ho ucciso la chat Mi sa Sta zazzara Oh 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 Metti il socio Stanno per operare un'ascensione No Non muovermi No sono stata rilevata Poi Eh si quando vedi quel segnale L'ora Lo so lo vedevo dai thermos ma Ma perché prima durava Ciò di più Ma è molto più veloce No non mi piace questo posto Ok ok davanti alla bomba B B Da dietro No Alice mi si è passata avanti Ti ho sparato Ah cazzo Ah ma io posso fare una cosa da per qui Ok Presa presa Sei saltata Però ti ho 34 divisa Eh io ho 37 Giù? Eh il medico si è restato E' ripa Beh però si è restato Wow questa non era rotta Perché ho fatto questa cosa? E' qua 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 E' qua 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 Attenti anche da sto lato eh Perché c'è una finestra rotta che non era rotta Allora eh Ok eh dovrebbe essere qui a nord Eh dove Questo qui l'ha ucciso te Bomba B Eh potrebbe aver fatto il giro adesso perché non sento più niente No è lì è lì 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 Porta qui Ho visto fermi Eh scusate No 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 tranquillo tranquillo Lo sto vedendo sto vedendo Porta B porta B lì Luca Luca Usciamo il prefire Ok L'ho mancato c'è Eugenio Bravo GG GG Tant'era solo questione di tenerlo lì Stavo vedendo Eugenio che andava Eh anch'io gli ho fatto un po' di danno eh Nell'ho mancato perché la misalità di Lisa non lo può fare Ciao Martis Ciao Martis Ciao Martis Com'è 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 Oh no Oh no Dammi grazzo mi diverte Oh rabbia Oh rabbia La sera sono distrutto Fra Fra Il PHA sta per l'acidità Esatto Ma niente Martis abbiamo tiltato un pochino contro Hunt Showdown perché è un gioco di merda e non funziona Sì Che invece funziona ed è molto più bello E rilassante a quanto pare Super rilassante E molto più rilassate Ragazzi È un motivo per la quale dopo l'esame L'ultimo esame che ho fatto ho fatto giocato a Valoran tutto il giorno Sparare alle persone nei giochi Nei giochi Rilassa Sono dove eravamo noi Sono dove eravamo noi C'è Capcan eh attenti hanno piazzato una trappola Sulla porta stronza Ok Alice hai idea di come si salga perché io no Io mi sto perdendo O no Che stava romando Ok hanno il medico che sta romando Si sta romando Ah il nostro alleato è fermo bene Daia Ottimo 10 secondi Prova Sparare le persone nei giochi Sì nei giochi Sì sì Per goliardia no? Non viviamo in America ovviamente mi dissocio da questa battuta goliardica Ma andrò non puoi correggere le mie battute per fare una peggiore ok? Alice allora Vi faccio quello che vuoi Chiuse Allora non correggermi Io vorrei fizzare qua Sto strozo ci ho provato Cristo Ma hai sparato te Ma hai sparato te No Anche perché lo senti quando ho sparato la Poi Dado vieni qui Chiuse vindo me Ti ha detto Fuz vieni con me? No ha detto poi Dado vieni qui Tu che cazzo Chiuse vieni? Edividuato Bravissimo Vabbè ragazzi c'è Ma eh Fate vobbis Io vorrei giocare ragazzi Ebbè uno mi è uscito lento su un coso Uh Mi ha spaccato il Fuz Io non entrarei da qui ragazzi Watch me Però voglio Ma siamo davvero in tre? Sì Ma io entro entro Ha ucciso Quanti ne ha uccisi scusa Cos'è successo lì un attimo Una carta da macello Era molto divertente questa cosa Giocare in allegria Ha ucciso Squeezy Ha ucciso me E basta? Ma magari Martis Magari Non prendo mai l'iniziativa questa Le hanno già fatte Non ti preoccupare loro due Cosa ridi Rocky? A loro loro non facevano gli uomini Ho fatto io Il donno Io ho questa Sono entrata e sono morta Questa masculinità tossica Alice Lo sai ragione Io non ho neanche piazzato una bomba Sono triste No io ho fatto un headshot Alice io non ho fatto un letteralmente un cazzo se non penzolare PENZOLA Penzolare Le hanno chiesto un cerchietto No no ma è il poliamore questo È il poliamore Il poliamore Il poliamore Io incredibilmente ho due kill Dato sì mi sei proprio scarso Alice Lo so Ho mai detto di non esserlo Sì ma abbiamo lo smorfone che c'è Arcaria qua Cookie Sono sempre da essere su posto? No, sono qui No, cucina C'è una bomba Noo scherzavo I'm coming I'm coming Hanno blitz Jager Mi hanno mancato con un po' Hanno blitz Hanno bandit Sì, scusa li confondo Ah ok Sono stesso gruppo Sanguigno Giuse, Giuse, Giuse Ci sono delle regole Ciao Giuse Mi faccio giocare con voi Vi apro il culo In realtà ci mancherà un quinto È vero È però non può giocare in un albis No ho lanciato lo flash Ma sempre a questo punto tu le lanci Ma semplicemente No allora era squeeze e ieri Eh? No eri tu ma sei stupido Ero io? Sì Ma perché mi devi dare la colpa delle tue bagianate? Delle tue bagianate? Ma scusami Luca tu conosci la definizione di pazzia Ma ero davvero io? Eh sì Sì Luca con montagne hai fatto fin grado con lo stordente Arterosclerosi Luca CARLO Stavo per spararti Luca Carlo Occhio Gli ho aperto qui eh Facciamo una cosa da progamer C'è qualcuno? No vai Davvero? XD Occhio che giusto là in fondo c'è il muro di mira Quindi bisogna coprire con tre labi Ora facciamo una cosa molto bella Tu mi copri quella porta Io piazzo Coprimi pure a sinistra Ah ma voi siete lì Siamo tutti dentro Ah lì c'è uno No coi L'ho preso in testa L'ho preso in testa Io ho sparato in faccia e non mi ha dato manco il marker Ma chi l'ho preso in testa? Non ci credo Io che... qua? No era nel... era compenetrato nel cadavere Io non ci credo Ok mi ha dato l'assist Ok là Cosa facciamo? Cosa facciamo? Esatto Sì esatto Quella là sono io Cioè è Luca non è follia quella cosa Non l'hai mai preso nella vita Sì no l'ho sfiorato nella schiena È bello perchè noi gli spariamo in faccia e manco il marker Luca gli prende Laura e muore Cioè anche io sono sicura di averlo risultato anche perchè era immobile perchè era disteso No allora io l'ho preso quello Ok se se ne fa un altro? Sì dai 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 voglio usare tachianche in onore di non mi ricordo chi Nooo quello che l'ha scritto qua cadete il Lorde non si banna È morto di colpo della strega Sarebbe un po' di Volta Renda Sì esatto Lurro esatto L'ernia del disco è una brutta cosa Stessa cosa di ieri Lurro Ho il pacchettino! Ho il pacchettino! Il pacchetto! P особенно parapapается Paraparapapapapapapa Paraparapapapapapapapapapapapa P los go Paschettino pacchettino Fa spaccettare Spaccetta spacchetta È le stesse leader Spaccetta spacchetta Sì, sto riuscendo da spacchettare Si, spacchetta Che bella Sempre spore skin army Singapore però sempre per operatori che non ho ovviamente e cioè in sorprendimi scegliendo un operatore particolare dice giuseppe la marca se ti viene lenne al disco per caso ci si blocca stavi per dirlo per dirlo detto maremma tu sei al giusto livello di aspetta alice vuoi sono andato diretto su doc evi o non riesco ad usare i giacali in modo decente da mille partite tipo crash vero eugenio martis e non è un corso no è un sub è ma che colpizio che vede ogni ora scriverò qualcosa e adesso devi scrivere ora scriverò qualcosa un vero dove scrivere fra ragazzi sono consapevole di essere a giusto livello di k a grazie grazie davvero di comprendermi in questa in questa manica di matti ma di matti adesso però non lo so lo so fatelo per favore ma ragazzi io io so dove non so ah facciamo a caso ok perfetto a caso cliccate a caso ragazzi questo qui è il maggior domo che sta al bar di sotto sotto casa mia il maggior domo che sta al bar il maggior domo che sta al bar è bellissimo usiamo il mitra se no eugenio mi picchia si impugnatura o verticale o inclinata ok adesso non lo devi prendere clash sai il pisello si 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 kek kek w molto bene ehi baby ah 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 wanna know perchè non mettete mai in pre live della musica anni 90 io la metto eugenio tu mi stai offendendo io la metto sempre almeno una canzone di 80 la metto sempre brutto pezzo di torta a me non piace che ha fatto un caricatore immaginate se fossi stato di ebedica mi interessa come mai non esce no in realtà c'è dovrebbe essere tbtv ah forse non ho aggiunto ok ehi baby perchè non siamo canali minori ricordiamo rinforzatelo ok luca 10 secondi non fare gli addominali eugenio 5 secondi 4 aspetta ah vai ahahah luca non è ancora quello è un drone t'ho visto sa gatto che spavento da dove è apparso il gatto in camera mia ti è capito il gatto è apparso apparuto aspetta occhio alice faccio google ah impazzo ok sono entrati dal piano di sopra eh ci sono anche le mie telecamere su tutte e due le scale ok apposta eh controlla quella che sta dietro quella chiacciola come quella che sta dietro è quella più grande ecco quella tutta uh 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 quella tutta si hanno sfonduto lì al garage quale garage merda quale garage letteralmente c'ero io quello dove dovresti mirare dici io c'ero accanto ho sedici di vita c'è un individuo altro ragazzi eh per favore chiudi quel buco grazie qua sopra 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 una botola è aperta eh la botola è aperta eh rimani di un attimo c'è ok però tu devi coprirmi anche sulle scale fatte nevate 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 sta sfondando ce la poter' aperta qua sopra potrebbe aver fatto ma c'era qualcun altro lì alicee eh non l'ho visto lo vedo io no c'è anche l'altro e c'è anche il quinto lì sopra questo dato è un ruolo tutto non è un problema sarebbe la camera tu 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 scusate scusate c'è nessuno qui ho trovato le telecamere no 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 luca eh perchè perchè mi sparano no ma dove sono? ma tu sei? ma dove sono? ma tu sei? non esistono non esistono neanche fuori ci sono eh no qua si fuori garage 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 si ci pezzo io ci pezzo io occhio hanno sparato e mica passa avanti con molta calma quelle trovata ah porca miseria appena l'ho vista dove? sono qua è sempre fuori davanti davanti la garage occhio lì è entrata sulla destra sulle scale occhio sono i due alla mia prossimità qualcuno qui qualcuno qui ragazzi sono tutti qui i miei allarmi uno è qua bravo bravo arrivano dalle scale occhio da due sulla destra uno ucciso ricarico qui eh qui 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 da me qui da me dietro dopo ve lo pingo ve lo pingo nice bello vinto bello il tempo limite è stato raggiunto c'era un drone del cavolo da qualche parte brutto pezzo di torta si beh una torta può essere brutta ma può essere anche buona dipende come la fai è vero sappiamo in questo momento come una bistecca una cena vegana buonissima buonissima indispensabile proibita proibita allora no il silenzio vale più ragazzi 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 su sull'unissimo profilo instagram di unicordi c'è seguito luca cipollino holy shit luca cipollino è il nome più bello che abbiamo mai sentito grazie luca cipollino grazie luca cipollino bellissimo luca cipollino è partita su qui 무 no è che stavo laggando ragazzi scusate cazzo roba Verro E dietro mi interessa vocazzo avevo aperto soprà Ma la B è sotto? Sì Sono su due livelli differenti Io ho coperto tutte le scale a chiocciola Mamma mia che bordello che faccio Zappo ciao Cosa mi sono perso? Cavolo sta zona è orribile Un po' di cose Come lo difendiamo il sotto? Scusatemi Vengo anch'io Luca Siamo in giù almeno Oh porta principale Qua c'è musica da sala d'attesa che è bellissima Ma sentite anch'io C'è un drone che gira 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 il mondo C'è una botola aperta qua Ci sono due drone qui Sparano La fondo Sono in una posizione veramente XD Bro Occhio Più che altro copro dietro infatti Hanno sfondato dietro Dado Ci stanno facendo Ok è uscita Quella è nocca Io non mi muoverei da sotto però Perché io ho aperto la botola Esatto Copri dietro tu dove? Certo qualcuno qui sotto io Eh ci sono Sì dove? Allora sopra Luca dove lo senti? Qui mi è arrivata una granata Cavolo mi è aperto ma ci siete voi sopra? Eh ma Io non posso raggiungerti adesso Luca Devo farlo? No no Io salgo Vado a dare una mano a Eugenio Eh da sola però io non ho neanche visione del site della bomba Tanto devo passarti davanti Ok ok sei qua Ottimo ottimo È sempre giudato comunque Wait ti chiudo qua Eh uno quello lì che avevi detto l'ho ammazzato quello che aveva sfondato Cioè la scipurillaccio in fondo sono due qui Dove che hanno aperto? Luca? Eh no no è dove letteralmente dove è Eugenio Bro Frodo ma Ok Se mi fai la samba io non riesco Eh c'ho quello col martello che mi sta facendo bula 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 bula? Eh mi sta arrivando la slegge col martello che mi vuole sfondare Arretala 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 fallo venire Ci sono io nella stanza Infatti Eh sotto sotto Ho sentito i grati sotto eh Ma sono coglione pure io Sì Io sono in una posizione veramente La posizione più brutta della storia porca Eh disinnescatore Perché ho fatto storia Mancano dieci secondi Sfondano occhio No Cc Disinnescatore? Forse non fanno in tempo? No non fanno in tempo Oh nice Ottimo GG Eh ce n'era uno sotto che sta arrivando Io sono esploso Non sanno che se inizi a plantare il disinnescatore ti si ferma il tempo No no non ha fatto in tempo a prenderlo perché ha dovuto uccidere me Non sanno che se lo planti No no non ha fatto in tempo proprio per raccoglierlo Non ce l'avevano era in terra Eh lo small l'avrebbero dovuto raccogliere Eh intanto non gli cambiava nulla Non gli cambiava Comunque il pompa di muttershot ancora dai Comunque giù era entrato quello con la visiera Com'è che si chiama? Quello che si chiama? Quello che si chiama? C'è quello che si chiama? Ehm Blackbeard No Blackbeard Blackbeard Ah barba nera Blackbeard 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 Eh occhio sledge sledge E l'ha buttato giù E l'ha buttato giù Io quanto ti odio più sicuro Eh mi sono perso tutta la azione di lui Cosa ti sei persa? Eh tu ti sei persa la mia di azione Che cazzo è stato? È stata una bomba a idrogeno Signore dio mi han tolto pure vita ma chi cazzo l'ha fatto? una granata impatto vicino grazie vigile di avermi avertito ben individuato e tanto non posso passare con sensazione sottolinea tanto l'hanno individuata quindi si sono passati no 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 ah no invece si da qui non ce l'ho pensato provo a rinforzare qui come non l'ho preso un po di colpi in posizione bomba cura io sono nei bagni sta cavolo zazzara per l'avor di dio io ci sto mettendo troppo qui t'ho visti sa qua 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 arrivo io arrivo io occhio mi metto in mezzo voi copriti dietro dai ragazzi non guardate tutti in un punto c'è pure la scala io sto coprendo dietro scala hanno sfondato scala aspetta faccio una cosa per evitare no luca fermo ok l'ho giusto tanto hanno già rotto lo so ma zitto volevo gioire ok credo abbia ucciso qualcuno è entrato qualcuno mi sa occhio ragazzi credo che ci sia qualcuno su A credo e te devi andare vuoi che venga con te? no no ah ok ho finito anche dove? qui non serve più l'effetto è lì? merda scale dai dove? sempre scale avevo morto Dato questo non è molto cashmore no ma non riuscivo a trovare le mie posizioni morto a scale bravo lock qui dove sono io ok guardate la camera eh si sta facendo occhio bravo dov'è? oh pico non è che sono fottutamente ovunque porca vacca sono un cristio ora c'è il tizio di una altra squadra sta entrando ta entrando è cazzarato è cazzarato è cazzarato parecchio no ma io non riuscivo a capire dove posizionarmi in realtà. Proprio è difficilissima ora. Eh, sono volato per la cosa di Khalid. Non seleziono più quello... Ah, ok, vai, intanto adesso me ne attacco. Gatto vuoi uscire? Guarda, non so perché ti hanno fatto entrare. Che palle. Allora, che picco. Glads, spero siano sopra. Anche se non lo sono, c'è la botola sotto per il garage. Usi quella. Ah no, cavolo, se sono in garage, tanto abbiamo un hard pressure e via. Ciao, Brodino. Ciao, Brodino. Ciao, Brodino, di Ascella, ciao. Com'è, com'è? Bel nome. Devi dirlo per lei stesso. Sì. Eh, sì. È bellissimo. Guarda, mi ha toccato sta roba del sì, sono molto contento. Era come DJ Dixis ieri. Sotto, 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 sotto. DJ Dixis. Sì, sono sotto il book. Eh, Carlo. Spawniamo da... Dov'era? Stazione di servizio, sì. Puoi fiutere da sopra Luca. Io sono glad, però va bene. Ah, ti ok, che fiuzzo è dato giunto. Se spawni da cordone di polizia c'è la botola, entrando a sinistra. Dato, te. Bravo. Certo, dovrai un po' vedere per conto tuo, però... Sì, sta là. A me basta spondano. È sotto la macchia, eh? Buono. Attento di sponchere. Non credo che lo facci, no. Lo facci, no? Lo facci, no? No, da qui, cavolo. È rischioso, eh, però. Sì, però dovete essere calmi. Ah, no, no. Ok, bella. Wait, entro. No, no, no. Chi è Ipana? È l'altro. No, letteralmente si è messo fra me e dove sparavo. Mamma mia, pizzeria, occhio. Ho colpito la testa. È... Il disinnescatore è di nuovo nostro. Potrebbe arrivarti all'occhio, da, no? Che starà romando. Perché questo deve entrare? Aspetta! No, questo è veramente... Eh, hanno smoccato. Io ho smoccato. Io vedo attraverso... Ah, ho smoccato? Vedo attraverso le smoke io con un glad. Io non l'avrei fatto. No, perché spero che quello col fattore fumo, ma... Non capisco che c'è glad, niente. Oh, forse è un po' pericoloso, però. Molto pericoloso. Uh. Eh, lol. E gli spari proprio a pre-fire. È uscito... Si è mossa in quel momento. Bello. Ah no, percato. L'avamo visto l'invento. L'attaccante è stato eliminato. Come ho fatto a sbagliare? Mi spiegate? Eh, grazie del momento. Come ho fatto a sbagliare? Vabbè. Ragazzi, scusate. Eh, tranquillamente, l'ho sbagliata anch'io dopo tutto. Soprattutto tu, Luca. No, affanculo. Quando vuoi, tranquillo. Vai prendo Ying, sai che ti dico. Eh, ci manca l'art, periccio. Ma prendo la carica da riduzione, se vuoi. Faranno sbagliare. No, ma ragazzi, l'ho letteralmente spottato, sono uscita in pre-fire, non l'ho colpito. Cioè, ho panicato. No, poi lui si è mosso l'istante in cui siamo usciti noi. Ora la smetto perché la sa... Sì, ma siamo comunque 2v1, cioè, doveva essere strapersi, in nessun modo lui doveva vincere. Dovete usare il drone per trovare una bomba. Sì, mi dispiace. No, possono essere giù in quello dei tuoi piani. Io che stanno al piano. No, non stanno giù. Stanno al piano? Stanno su. Su, su, mi sa. Stanno su un secondo piano. Però ne ha trovato una bomba. Sì. Ah, è vero, siccome è gratis questa settimana Rainbow, ci sono le persone che non ci hanno mai giocato. Ma dice che è per questo? Eh sì, per forza. A parte che c'è il primo loro che c'ha, e al 104 c'ha un'immagine profilo molto, ma molto spicy. Cosa fa quello vestito all'inglese? Ah, è quello là, è immune alle flashback, ovviamente io ho peccato io, ma guarda che coincidenza. Ma io non ci posso credere, guarda. Ma immune per sempre? No, no, è a tempo limitato. Si ricarica e poi lo puoi riusare. Eh, alla faccia se ne roppi. Ma volete uscire da sotto? No. Dove io sto andando da sopra? Io sinceramente sto facendo cosa a caso. Che cazzo di spavento! Chi è che ha frizzato? No, sono io con Inga. Ah, aiuto. Mamma mia, quanto suono ASMR questi suoni. Come non l'ho preso io? Hai una carica te, Dado? Coprimi Alice che sta piattendo. Qui in caso. Dado non sta parlando. Un attimo posso analizzare? Eccolo là. Come l'ho uccisa? Ah, perché ha mirato a Dado, ok. Ah, abbiamo tre Dado. Ok. Che hai detto abbiamo tre Dado? Sì, tre Dado. Tre Dado. Cioè, quando ci si ammazza a vicenda. Ciao, vai. Ciao, ciao, ciao. Buone partite. No, credevo avessi fatto un gioco di parole fra tre Dado e Dado, perché è morto Dado. No, sono molto stanco per fare una cosa così. Mi piace un sacco Giacara, ragazzi. Sì, è carino. È bastardo. Perché è bastardo? Esatto. Perché quando se lo usano gli avversari è da stronzi. Sì, però quando lo usi te va bene. Esatto. Ti ammazzi come persona. Sì. In squadra tua. Ah, ah. Ma io non so... Cioè, no, Ela non ha ucciso me perché ha mirato a Dado. Se mirava a me ci faceva entrambi. Perché ero semplicemente più girato di spalle. Ora non ho preso l'Erdoblisher, voglio andare a Bacco. Questa è Bacco per Bacco. Dite che risaranno là? Io ci scommetto. Io sto provando sotto. No, sotto hanno vinto. No, no, possono andare in quella sui due piani, eh. Però non... Se sono pazzi come noi, sì. Noi ci abbiamo vinto. Ma infatti loro non sono pazzarelli come noi. Paxarelli. Vinto per il tempo alla fine. Mamma mia. Sì. Perché siamo dei pazzi, però. Che cazzo è Rook? Guarda com'è, com'è lo gioco. Lo gioco. Mamma mia, guarda quanto lo gioco. Stealth. Stealth. Con la T senza luck. Uno sta rompendo giù, è il primo piano. Ok. Che palle. Vabbè, come per i mazzi. Attenzione, è il primo piano. Ah no, è il nostro alleato che spara random. This is a scala. Perché non so giocare a questo gioco. Non dirlo a me. Tu vuoi morire per l'amor di Tio. Ho mancato il terrazzo, non ci credo. Devi recuperare il disinnegatore. Ho fatto una struzzata, ragazzi. Non posso sapere cosa è successo. Ho fatto la stessa cosa di prima, ma ovviamente se l'aspettavano. Però l'ho fatto comunque. Quella è la follia. Dove posso entrare? Eh, l'ho visto un'arma, io, vuoi. Mamma mia! Vabbè, entro io. Ma dato che si è mutato... Non ho sentito. Sì, dato che è mutato. Oddio, ma da quanto è mi sono mutato, ragazzi? Te l'ho detto prima, da un prima anche. Maremma. Eh, bisogna prendere il disinnescatore. Ma vaffanculo, camperone del cazzo. Eh, no. Disse quello che è stato mezz'ora da aspettare uno che vedeva l'arma. Dove se non le scala è detto? Già, c'era il mio drone. Ah, è vero. Sì. Faccio. Quello che è la camera. Eh, ciao, buona, adesso. Adesso vengono qua e mi... Inchioppano. Eh, ecco, infatti. Guarda, l'attacco eliminata. Quelli dovresti fartela con un'arma silenziosa. Eh, ma... Ah, i giubbottini? Sì. Giubbottini! Maremma. Ragazzi, c'ho vinto, dai. Dai. Ma come mai si stai spenti tutti quanti, ragazzi? Sì, infatti è... Alicei perché ero mutato, non... No, credete in chat. Però... Si spende... No, no, ma... No, no, anche voi. Non lo so, Alice. Scusate. È una mia vita. È la mia vita che è così. Sto crepando, ti so. Inizio a sentire la stanchezza. Non tro io, no, no. Io penso di aver bevuto troppi caffè oggi, quindi sono svegliissimo. Io penso di farmi... Nessuna barricata nel garage, eh, comunque. Io sono distrutto, cosa hai fatto? Pingo, cosa hai fatto? Hai scritto troppe cazze, ovviamente. Scherzo. Voglio bene. Giù c'è due giubbottini, chi non l'ha preso? Qualcuno deve rinforzarmi qui. Hanno trovato la bomba, ragazzi. Sì, sì. La squadra d'attacco ha trovato una bomba. Ma per chi io la decido? Io di tanto spunto, ciao, Ruru. Ciao, Ruru. Eh, c'è una frittata fatta al male al posto del cervello, è peggio del solito. Ma com'è? Prova? No, mantieni la gente. Allora, sono tristi, sei viciosi. Ok, ha finito la festa. Dov'è che hanno spaccato? Qua. Eh, lì, lì non è rinforzato, le attenti. Posso rinforzare io? Eh, rischioso ora, eh. Ti prendo un bel rischio. Non stanno pushando qua. Strano, pazzoli. Vedi? Gigi. È solo una vera questa. No, eh? Scusa. Ok, va bene. No, 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 va bene. Qui hanno spaccato, non so chi è stato. Eh, no, ho visto anche io prima. Era rotto. Anche su ce n'è una spaccata che ne ho capito. Io non vedo nessuno con le telecamere. Io non vedo nessuno e basta. Qua sopra ne ho spaccato? Sì. Ci ho guardato un quarto d'ora prima ma non... Vabbè, campero io, campero io. Dove c'è quello stanno questi... Non so. Sto cercando quello di telecamera possibile, è immaginabile. Hanno deciso di chi va a fare così. Vabbè, sono tre. Hanno trasferito le bombe fuori. Ma quella Claymore l'avete messa voi? No, non possiamo mettere Claymore. Ho trovato uno, eh. Era qua la Claymore. Ho visto dalla telecamera. Garage, è un'età. Qui, qui, qui. Qui, qui, qui. Stanno pucciando il garage. Non posso entrare tanto, è tutto smoccato da qua. No, qua ragazzi. Smoccato. Ragazzi. Luca, pegli tu la botola? Botola? Il buco? Sopra. Sì, sì, la cazzo. Eccole, eccole. Eccole. Vabbana. Il mio mute che fin ha fatto? Anche io, anche ho scomporso il mirino. Eccolo. È l'app di Racer. Ah, ok, ecco. Ok, sono lì. Viste? Viste i piedi? Viste? Siamo a 15 secondi. 15 secondi, tenetela. Dove? Non so come vi ha disperato. Ciao de Vasto. Ciao de Vasto. Non ci credo. Stanno plantando la... No, stanno plantando. Avevo il pompa, mi serviva la pistola in quel momento. Qua, da l'attacco, ha piaciato il disinnescatore vicino a una botta. Con la cam, se non era la morte della gente. Fermati. Sei forte, hai visto? Siamo veramente forti. Ciao de Vasto. Ciao de Vasto. Mi raccomando. Qualcuno può sfumare il comando regole. Presa. Tutti scriviamo attivo regole. Sì, per favore. Oggi si torna, ragazzi. Ho piaciuto una bomba vicino a un istitutore. Sì, no. Più che altro non l'ho aspettato l'ultimo momento per pushare. Cosa ho aspettato di fare? Eh... Ho piaciuto una bomba vicino a un disinnescatore. Ah, ma c'è un'altra partita da fare. Oh, l'isci. Sì, ragazzi. Eh, ora è finché uno non è vincendo di fila. Oh, mio Dio. No, perché no, no, no. Viz porta merda. Dammi passare. Anice, non avevi detto che non avevi sonno per niente. No, è che la mia concentrazione e il mio focus stanno cominciando a... Sì, sì. Sì, sì. Sono veglia, ma il mio concentrazione... Perché essere anche live è comunque stancante. Eh, stesa. Perché devi parlare. Però mi sa che è tipo un'ora e mezza che si sta live qua. Due ore, bro. Due ore. Tutte le mie energie a raggiare contro la CryEngine. Sì, esatto. Madonna, santa. Sì, veramente tutte le mie energie. È veramente un'ora e 48 che siamo in live, non lo vorrei dire. Grazie, ragazzi. Non ci sono giù. Cazzo, non abbiamo un Breacher, però... Non importa. Scusate. No, Fiuzzo non è un Breacher. I Breacher sono Thermite, quello nuovo e Ivana. Volendo le cariche, comunque, se servono. Eh, no, meno rinforzato. Sì, sì, sono utili. Sono caraccia. Però andiamo da su. Andiamo da cordone di polizia. Polizia. Anche perché era la rama, mi riesce a metterla. 10 secondi. No, Alice. Rip. Comunque sì, Artyom è esattamente quello che è successo. Ma perché sta partita, sta durando tanto. Sì, comunque sì. Dai, entriamo dall'entrata principale, bricciamo con le cariche di dado. Sì. Usiamo le botole, se non le hanno... Allora, c'è una botola qui. Sì. Aspetta, posso fare io, eh. Bravissimi tutti. Dai, sti cazzi. Non ho voglia di dare il letto. Qui, occhio. Sfonda quello col fucile a pompa. Aspetta. Ho colpito qualcuno di Alibi. Un'altra flashmack ce l'hai? Sì. Entra. Vai. Vai, date. È stata un'ottima idea, ragazzi. Ho preso quello di... Ho preso prima, io. Alibi. È Alibi! Ah, porca vacca! Fuck. Devi recuperare il disinnescatore. Ah, ragazzi. Troppo... Troppo, ragazzi. Troppo aggressivi, sì. Sì. Cazzo. Infatti, è boh. XT. Merda. Di cavallo. No, San, non rinforzarei. Invece no. Ciao, Devast. Buonanotte. Buonanotte. Lì, c'è nemmeno farmi le fave, schiavo. Ok. Senza, la musica. Anche perché recuperare 10 minuti è diventato facciamo un'ora in più. Ma perché Rainbow è bello, ragazzi. Sì. Trovato? Lo spotto? Spottato? Mi vedi? Non so giocare, sì. Eh, c'è il drone Diego. A parte che scusa... Scusa il secondo. Scusa il secondo. Ah, cerchi la botola quella sopra? Sì, è l'altra botola. Tanto non l'hanno rinforzata, non credo. È ancora lì il TXD, eh? Carica da irruzioni antimatta. Eh, ma no, 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 no. Allora. Aspetta, aspetta. No, non tu, l'altro. Cazzo. L'altro lo sto aspettando, l'altro sta pushando, Eugenio. Che palla, ragazzi. Ciao, Nedrick. Ciao, Nedrick. 25 secondi per me. Dovete entrare, infatti. Che palla, non mi... Dai! E buttati, sai dov'è Blitz? E ora sei morto. Avesse più tempo, forse. Si deve decidere questo tizio. Ha driftato, non ho capito che voleva fare. Stanno difendendo, che devono fare, scusa? Eh, non ho neanche visto cosa sto scrivendo. No, ho scritto fucking camper, il nostro. Davvero? Sì, è... Che cazzo vuol dire? No, non voglio saperlo, guarda. Ma era scritto perché camper sura, è impossibile. Capito. Oh, ragazzi, uno Jäger. Ciao, Simo. Ciao, Simo. Ciao, Simo. Prendo un altro biscotto, arrivo. Allì. Ti taglio il microfono quando fai queste cose. Mio padre che mi apre la porta e io tipo, no, chiudimela. Lui, no, te la lascio aperta. No, faccio. Ha paura che ti fai le seghe, Luca. No, dice che urlo troppo e poi mi lascia la porta aperta. Che urli troppo quando ti fai le seghe. Oh, anche. Ma te lo riesco. Eh? No, niente, parliamo di Luca che urla quando si sega. E il suo padre che chiude la porta. Che cazzo? No. Non è vero, non crede, cioè, tanto ormai li conosce, quindi nel senso. Non crede, abbiamo parlato letteralmente di quello. Quello sì, è vero, però no. Detto così sembrava tutto vero. Che cazzo? Ho un cazzo di drone? Grazie. Eh. Eh, c'è un po' il biscotto. Ho capito tutto. C'è un po' il biscotto. C'è un po' il biscotto. C'è un po' il biscotto. C'è un biscotto. Il biscotto. C'è un biscotto. C'è un biscotto. Prepararsi all'ingaggio. C'è un po' di andarsene in FK nello stanzino del dolore. Camera mia? Sì. Ah, cazzo, non è vero. Ah, dove cazzo è la... Qua. Ok, meglio così. Ok. Ho vinto un biscotto, ma si... Occhio, è entrato qualcuno dalla tua destra, lì, dietro. No, no, non è entrato, non sono rotto. Attenza, Dada. Oh, cazzo. Chius. Sì. Qua, dentro, dentro a B, dentro a B. Sì, 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 si è attivato tipo tutto del mio... Oh, sono tutti su B, ragazzi. Please. Please help. C'ho il drone. C'ho il drone, sì. No, ma io sono in posizione di merda, non mi posso muovere. C'è il B, esatto. C'è il B. E ho anche pure le scale, là. Oh, sì, c'è una alle scale, c'è una alle scale. Ragazzi, mi dovete coprire. Sto salendo, Doc Ebi, dalle scale. Sto lo spaventando. Qualcuno alle scale, qualcuno alle scale. Io punto qui. Mi sto qua uno. Eh, Doc Ebi, attenta. Vesco a vedere le scale. Infatti, contano più delle parole. Ricarica! Bro. Fuck, boia. Era Doc Ebi. Ah, c'è una posizione... C'è una posizione XB. Bravo, Dato. Ok, uno era sicuramente Doc Ebi. Che bella. Dato. Grazie a Dio. Posso uscire dallo stazzino. Bingo, ci sono, ci sono. Oddio, mi può curare. Una rama, ci sono. Che fa? Qualcuno sta coprendo qui. Che faceva, ecco, che faceva. Che faceva, ecco, che faceva. Eh, nice. Che ti ha amazzato, scusa. Eh, no, ma... Oh, cazzo. Vaffaculo. Stai tu puntando le scale, eh, Eugenio? Ok, Gigi. Io punto qui. No, è sotto. Oh, è sotto, sì. Sta salendo... Bella. No, è sotto. Sto salendo, tum, busata sul muro. Headshot, iperlaki. Ma che posso fingo si sta addormentando a piedi? Ma tutti stiamo avendo sonno, tranne le squisie che abbia avuto troppo caffè. Ma io non ho sonno, ragazzi. Eh, che te eri stanco. Vittoria sofferta? No. Oh, ma gioco... Beh. Però mi avevo vinto. In cc. Io quando ho chiesto a qualcuno di giocare in chat... Infatti ha detto dopo la live... Tu avevi detto durante la live... Però è diverso. Sai, no, il tempo prima, dopo... Eh, no, noi streamiamo... Scusa, no, dalle 23-23. Scusa così il tempo, Nid. Concludiamo in bellezza. Sì, sì, sì. Spacchetto col 28.5, dai. Pronto? Dai, colonna sonora. Dai, colonna sonora. Sono riuscito da giocare Che merda C'è un doro universale a più post Che schifo Io sono 15.000 Non ho capito Se è mancanza del tilt oppure La mancanza della 7 La 7 Non ho capito Ti manca la 7 La mancanza Ah perché la invece di ma Il 7 è venuto fuori Dalla magia della tastiera di arte Ok quindi non gli manca la 7 No Meglio Mediaset magari non lo so No Luca no Si è troppo bello ma Rainbow Six è troppo bello ragazzi Perché io non ci ho giocato in tutti questi miei 23 Perché non avevi i pc per farlo Esatto Eh però ragazzi che spreco No Bimbi Non mi saluto Perché state ridendo Non so lì c'è una risata isterica È una richiesta di aiuto Non è una risata Help me Bimbi non mi saluto ci vediamo domani Dalla 2223 come al solito come tutti i cazzi di giorno Ma lo sapete mi sono rotto i coglioni di dirlo Andiamo da Crosstantin Dai Che diciamo a Crosstantin però Si va da Crosst e gli si dice Quanto tempo sprecato L'hanno buttato Quanto tempo sprecato Quanto tempo sprecato A posto Dai Ragazzi A domani Ciao 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 belli Ciao Ciao